Patrizia ha detto se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio non è che vieni qui a fare psicanalisi gratis ok anche questo è insieme ad altre affermazioni che ciascuno di voi ha fatto io vi ho citato solo alcune frase ma ve ne potrei citare altre comunque tutto questo ha sicuramente procurato un movimento di rivolta popolare di cui chiaramente occorre tenere conto è per questo che il grande fratello ha deciso che il vostro comportamento si è spinto un po troppo oltre il limite perché se vi siete dimostrati comunque insensibili a quella stessa richiesta di aiuto come tanti altri e come tutti lo ribadisco nessuno sale in cattedra però c'è stato un atteggiamento un po da parte di ciascuno di voi quattro particolarmente sgradevole a sentirsi e a vedersi questo ve lo devo dire con grande onestà e dato che è il pubblico che si è indignato insieme a noi ma è il pubblico che da sempre è sovrano di questo programma sarà il pubblico questa sera che con il televoto stabilirà chi tra di voi potrà avere una seconda possibilità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti